Quando iniziano gli esami di Stato? Il 17 giugno. Come si fanno gli esami di Stato? Non ci saranno più le prove scritte, ci sarà un colloquio orale della durata massima di un'ora. Questo colloquio orale prevede, potremmo dire, diverse fasi. La prima è in apertura la discussione di un elaborato sulle discipline di indirizzo che i nostri studenti concorderanno con i loro docenti. La seconda è la discussione di un testo di italiano che è già stato studiato nell'ultimo anno in classe. E poi ci sono dei materiali preparati dalla commissione che verranno assegnati agli studenti sul resto delle discipline. I commissari saranno tutti interni, in più lo studente racconterà, spiegherà quello che ha imparato nelle sue esperienze di Ptco, quella che prima veniva chiamata l'alternanza scuola-lavoro, e poi ancora le conoscenze e le competenze di cittadinanza e costituzione. Qui apro una breve parentesi. Non c'è scritto nell'ordinanza, ma qui parlo alle scuole, parlo ai docenti. Mi piacerebbe tanto che i nostri studenti abbiano la possibilità, in quella parte d'esame che riguarda cittadinanza e costituzione, di parlare di come abbiano vissuto l'esperienza del coronavirus. Perché lo dico proprio nella parte di cittadinanza e costituzione? Perché credo che le ultime settimane che i nostri studenti hanno vissuto li hanno fatti maturare tantissimo. Forse li hanno resi veramente quei cittadini ancora più consapevoli di vivere in un paese che in questo momento sta facendo di tutto per proteggerli. Quindi è una richiesta, ovviamente non è un obbligo, infatti non è scritto nell'ordinanza. Abbiamo voluto valorizzare il percorso scolastico dello studente, pertanto gli studenti potranno partire da un massimo di crediti pari a 60 e la prova orale avrà invece valore 40 per arrivare a 100 e chi mediterà prenderà anche la lode. Abbiamo insistito affinché gli esami di Stato fossero fatti in presenza. Perché? Perché è un momento importantissimo, è un momento per certi versi di passaggio, dall'età adolescenziale, se vogliamo, all'età adulta. Qualcuno lo definisce un passaggio rituale. Io penso che tutti noi, me per prima, ricordino il momento dell'esame che hanno vissuto. Io lo ricordo come uno dei momenti più belli della mia vita. Mai mi sarei sentita di togliere questo momento ai nostri studenti. A maggior ragione, in un'Italia che sta ripartendo, questi esami, lo ricordo, saranno fra circa un mese. Quindi io mi aspetto adesso dagli studenti, qui parlo a loro, un massimo senso della responsabilità. Studiare serve a se stessi, non serve per il voto. Serve per costruire il proprio futuro in un'Italia che oggi ha ancora più bisogno di loro, come giustamente anche lo stesso Presidente della Repubblica ha sottolineato. Noi abbiamo bisogno di studenti preparati.